La sfida è quella di passare da mafia capitale a una forma di democrazia diretta. Assolutamente sì, ad aprile abbiamo presentato questa proposta di revisione dello statuto di Roma Capitale che è qualcosa di rivoluzionario. Noi in cinque anni vogliamo prima cambiare lo statuto di questa città e poi tutti i regolamenti attuativi che disciplinano la modalità con cui i cittadini possono intervenire nelle decisioni che prendono gli amministratori. Ad esempio nella scorsa settimana, qualche settimana fa, è stata fatta una votazione online su Roma Servizi per la Mobilità per decidere quale tipologia di preferenziale adottare, quale tipo di progetto su Viale Marconi. Chi più dei cittadini effettivamente possono dirci come devono vivere la loro città? Sulla base di questo abbiamo cominciato questa grande riforma che porterà la città di Roma ad essere paragonata o allo stesso livello di altre città come Madrid e Barcellona o anche Parigi. A Parigi ad esempio votano online circa 400 milioni di euro di opere pubbliche. I cittadini decidono quali opere finanziarie e quali no con i loro soldi. Giustamente i soldi sono effettivamente dei cittadini e quindi vanno consultati anche su magari piccole porzioni economiche, di piccole quote del bilancio su quelle che possono essere le priorità. Il panorama degli strumenti che introduciamo è abbastanza importante. Partiamo dalle petizioni popolari che è uno strumento che tutti conoscono, quello che sotto casa magari si va a raccogliere le firme perché hanno cambiato un senso unico o un altro. Invece noi vogliamo che queste possano diventare online. Quindi il cittadino potrà presentare la sua proposta di petizione all'interno del sito di Roma Capitale e qui le altre persone, magari vicini di casa o comunque chi fa parte di quel territorio, può firmare online e quando saranno raccolte circa 30 mila adesioni potrà addirittura illustrare quella singola petizione in Assemblea Capitolina. Lui stesso porta la sua petizione in Assemblea Capitolina e viene ascoltato dai consiglieri comunali, dal presidente dell'Assemblea Capitolina e questo ovviamente per dare la possibilità ai singoli di poter illustrare quelle che sono le loro proposte. Accanto a questo ci sono altri strumenti dal bilancio partecipativo che è quello che dicevamo poco fa cioè la possibilità per i cittadini di essere consultati su temi economici e quindi di sapere quale opere o meno possano essere finanziate o anche soltanto dove andare a mettere i soldi effettivamente che il cittadino o comunque i romani pagano con delle loro tasse cioè magari se la priorità può essere effettivamente la ristrutturazione o la messa in sicurezza delle scuole o d'altro quindi diciamo dare, avere un feedback su quelle che possono essere priorità. E poi in ultimo il referendum propositivo senza quorum che è un strumento innovativo. Roma Capitale oggi ha due tipologie referendum, quello consultivo e quello abrogativo. Significa che un comitato promotore di circa, diciamo, con 30.000 firme può presentare una proposta e questa viene messa al voto direttamente da parte della città. Se viene approvata diventa una delibera senza dover passare, diciamo, per così dire, dal Consiglio Comunale. E questa è una cosa anche molto utilizzata in California, in Svizzera e in tante altre città. Alcuni comuni del 5 Stelle già l'hanno introdotta e è proprio la quintessenza della democrazia diretta. A questo abbiamo legato la possibilità di introdurre un sistema di votazione elettronica che non è il voto online vincolante che esiste, però in Estonia e in Italia probabilmente non sarebbe possibile per la Costituzione perché servirebbe una modifica costituzionale, però è possibile il voto elettronico in cabina elettorale. Cioè al posto della carta c'è magari un schermo dove uno digita la propria preferenza, il sì e no. Questo ovviamente per i referendum comunali, quindi non per le elezioni. È uno strumento che già utilizzato adesso a fine anno lo utilizzerà la Lombardia come votazione elettronica. Voteranno effettivamente i cittadini che abitano in quella regione, voteranno con questa modalità. Già stato utilizzato in alcune città del Salento, quindi perfettamente allineato sia da un punto di vista legislativo e costituzionale. Quindi noi abbiamo preso questi strumenti fermi da più di vent'anni perché l'ultimo regolamento sugli istituti di partecipazione era del 94. Quindi li abbiamo presi, abbiamo dato nuova vitalità e abbiamo proiettato la città nel futuro. Questa è la nostra battaglia e la proposta in questo momento è in discussione nei municipi, anzi sta concludendo. L'iter dell'espressione dei pareri, molti sono appunto favorevoli anche con delle osservazioni. Appena tornerà in consiglio nelle commissioni capitoline, arriverà poi in aula. Pensiamo tra la fine di luglio e il mese di settembre di poterla portare in approvazione. E da lì inizierà questo nuovo corso. Tra l'altro, proprio in queste settimane, e invito tutti coloro che utilizzano il sito Roma Capitale a farlo, c'è online la nuova piattaforma di Roma Capitale e del nuovo sito con tutta una serie di funzionalità innovative. E anche nella progettazione è stata data la possibilità ai cittadini, diciamo all'assessorato Roma Semplice, che in questo momento appunto mano all'assessora Flavia Marzano, di poter contribuire e decidere cosa mettere e cosa no all'interno di questo sito. E c'è una sezione ad hoc che si chiama Partecipa, dove lì il cittadino potrà quindi entrare e fare effettivamente le sue proposte. L'obiettivo è proprio questo, mettere al centro del progetto il cittadino che potrà anche proporre, perché no, delle nuove soluzioni. Il referendum non sarà soltanto abrogativo. Assolutamente, oltre ad essere consultivo e abrogativo, noi abbiamo introdotto questa terza tipologia, che è prevista dallo Statuto degli Antilocali e dal Testo Unico degli Antilocali, che è il referendum propositivo. Cioè il cittadino propone un quesito per una materia magari innovativa, che il Comune magari non aveva mai disciplinato, magari non si era mai accorto, e quel voto ovviamente diventa poi efficace e importante per tutta la città. Abbiamo anche esteso il periodo di discussione, questo è un elemento importante, perché qualcuno può pensare che al centro di tutta questa riforma sia il voto. In realtà il voto è l'ultimo step rispetto a un percorso. Cioè se il processo e il percorso da parte della cittadinanza, il dibattito, la discussione sui territori, è fatto in modo sano, allora il voto sarà ovviamente sano e potrà effettivamente essere anche rappresentativo. Per questo motivo abbiamo esteso il periodo di discussione da sei mesi, lo abbiamo portato ad un anno, come anche in altre città, diciamo Svizzere, ma anche in altri paesi dove effettivamente si fa referendum una volta l'anno. Quindi c'è tutto un anno per poter discutere, dibattere, conoscere, approfondire effettivamente quali saranno gli impatti del proprio voto. E a quel punto poi il cittadino e romano consapevole sa se votare a favore o contrario magari a quella proposta che altri cittadini hanno presentato. Su questo tema è stato più facile un dialogo con l'opposizione? Beh diciamo che l'opposizione abbiamo cominciato a discutere di questo tema in commissione alcune settimane fa, sono state prime, è stata illustrata la proposta. C'è stata una seconda seduta dove abbiamo invitato anche tutta una serie di associazioni che hanno portato il loro contributo propositivo e segnalato alla presenza anche di molti municipi insomma quelle che potevano essere criticità. E terza seduta c'è stata anche una audizione da parte di professori di diritto costituzionale e chi ha sperimentato già ad esempio il voto elettronico è venuto in commissione e ha dato il suo contributo dandoci diciamo delle linee e spiegandoci quali sono i pro e i contro. L'opposizione in questo senso noi auspichiamo, io auspico, che ci sia diciamo la massima collaborazione e partecipazione sul tema, è stato tirato fuori il tema delle quote di genere che fa parte anche questo della proposta di revisione dello statuto, anche lì sgomberiamo il campo non è stato eliminato alcun tipo di quota rosa all'interno dello statuto di Roma Capitale le quote rosa ci sono, sono tutelate, soltanto che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta per riportare le quote oggi che è previsto da 50 a 50, tra l'altro lo statuto parla di norma quindi insomma è anche molto flessibile al 60-40 o meglio noi avendo tolto quell'inciso c'è una legge che è la legge del Rio che tra l'altro è del PD e se l'è anche votata il PD e che prevede che le quote all'interno delle giunte siano 60-40, tra l'altro non dice se uomo o donna quindi potrebbe essere anche 60 donne e 40 uomini come percentuale, ecco e loro hanno contestato direttamente questo. Veniamo invece al tema dello stadio, è il tema che insomma è predominante in questo periodo anche qui a che punto siamo e siete insomma fiduciosi di approvare la delibera entro mercoledì? Beh sono stati fatti tutti i passaggi necessari per poter portare in approvazione il prima possibile questa delibera, questo testo della proposta insomma legata allo stadio della Roma. Devo dire questo che noi oggi andiamo per la prima volta, se possiamo così dire, a discutere di questo tema in consiglio comunale perché nei precedenti giorni ne abbiamo discusso nelle varie commissioni e sono stati dati vari pareri da parte della commissione urbanistica, mobilità, da parte del municipio competente e noi insomma ovviamente siamo favorevoli quindi all'approvazione e vogliamo portarlo fino in fondo. Le opposizioni però attaccano sostenendo che c'è stato un taglio troppo significativo delle opere per i cittadini. Ma in realtà le opere sono diverse che sono state messe in campo se pensiamo soltanto ai due ponti ciclopedonali che comunque collegano effettivamente le due stazioni dalla riduzione comunque delle cubature per il business park dal fatto che sono stati anche superati quei rilievi legati ai rischi idrogeologici del fosso di Valerano quindi insomma sono diversi elementi che sono stati portati avanti in questa delibera e che hanno migliorato pensiamo soltanto alla qualità dei materiali e dell'impatto che poi ha sul territorio il fatto di dire al proponente che bisognerà utilizzare dei materiali a basso impatto energetico con nuove tecnologie quindi comunque uno stadio green. Questo è un po' importante senza poi dimenticare del fatto della Roma Lido, cioè il fatto che comunque vengono messe circa 40 milioni di euro per mettere dei nuovi treni quindi per dare valore finalmente anche a quest'opera che ovviamente è lì e che ha necessità anche di questa nuova linfa. Quindi di fatto secondo noi stiamo andando nella direzione giusta, abbiamo migliorato quello che gli altri effettivamente ci avevano lasciato. Oggi questa delibera può secondo noi essere approvata. Chiusura sulle ultime elezioni amministrative. Per il Movimento 5 Stelle insomma non è stata una tornata positiva, come mai secondo lei? Ma secondo me invece sì, perché io prendo i dati del 2012, prendo i dati del 2017 e il numero dei ballottaggi è superiore rispetto al 2012. Cioè il trend del Movimento 5 Stelle è che siamo andati a ballottaggi su più città rispetto a cinque anni fa. Tra l'altro con una riduzione dell'affluenza è importante e questo invece è un problema da dover ragionare fino in fondo perché ovviamente quando i cittadini non partecipano alle elezioni significa che probabilmente c'è la classe politica che ha governato fino ad oggi e ovviamente non ha dato delle risposte. Quindi il Movimento 5 Stelle dimostra che è in crescita su quei territori dove invece pochi anni fa, cinque anni fa, era magari ancora al 2-3%, invece ha aumentato il suo consenso e soprattutto è andato a ballottaggio su città anche importanti in provincia di Roma pensiamo a Guidone e Ardia, quindi comunque diciamo un buon risultato per noi.